Ciao a tutti, siamo qui per una nuova puntata di Radio Sveglia T.id, siamo qui dalla clinica di Villalba dove comunque ho costruito una via postazione per poter parlare con voi, tutto stessitissimo, speriamo che la gente non rompa le scatole perché come al solito c'è c'è la gente che dice che faccio rumore, rumore, perché per alcuni la musica è rumore, eh, farai capire come si era il mondo. Comunque vabbè, passiamo al momento del giorno, oggi sono qua perché volevo farvi ascoltare un brano del momento molto bello, sono qua, cantate e viaggete, Pasqua, intanto fumo una sigaretta, noi siamo i soliti, è molto importante questo a spazio storico, questo pezzo è in quanto a te, come dice un vasco che ha fatto questo pezzo per l'uscita del suo nuovo film, questa storia qua. Siamo i soliti delle illusioni, delle grandi passioni, noi siamo quelli che, vedete qui, che è un calcio profondo, è molto bella, abbiamo frequentato delle pericolose abitudini, poi cos'è che c'è a dire? non vivi quasi per mirato, oggi ho raggiunto altri soldi, sono qua in compagnia anche, no ma siamo in due qua, dopo vi faccio vedere, ma è qua il soldo è solo, e io faccio, non guardarmi, siamo in due siamo, c'è qua un mio collega, che è qua, è molto tranquillo, è bravo finché non lo fanno arrivare, se uno copia questa canzone sarà mia una bestia. Io parlo sopra, perché sennò voi, piccoli delinquenti, copiate e non mi fate più fare il cambio gomme della bandlay, perché la bandlay costa le gomme, qualche copiatura in più mi metterebbe in crisi il cambio gomme della bandlay, quindi ho deciso di parlar sopra il disco e non senterò, tanto sentite lo stesso, noi siamo i soliti, se volete c'è i tunes, c'è la troia. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni, noi siamo quelli che vedete qui, abbiamo frequentato delle pericolose abitudini, e siamo ritori, sani e santi, senza complicazioni, noi siamo liberi, liberi, liberi di volare, noi siamo liberi, liberi. Adesso però passiamo, perché sennò qua ci vanno i vicini a casa, non è bello, perché qua, in questo paese di merda chi, erano un po' di cojoni, va bene, vi saluto, mi raccomando, andate su i tunes, scaricate, non scaricate legalmente, che non va bene, ciao.